Abbiamo un numero troppo modesto di studenti internazionali, siamo sotto l'1% che è inferiore anche alla media nazionale e quindi dobbiamo crescere. Un'internazionalizzazione che riguardi anche una capacità di attrattiva di docenti e quindi in questa prospettiva dobbiamo muoverci. La capacità di essere attrattivi all'estero vale per gli investitori, vale per il capitale umano, studenti, ricercatori, docenti. Traduce numeri e percentuali in agenda Gianluca Gregori, neoeletto rettore dell'Università Politecnica delle Marche con plebiscito, il 94% dei consensi candidato unico. La sintesi, più collaborazioni all'estero sia per il rientro dei cervelli sia per le lauree congiunte riconosciute da più istituti. Penso ai doppi titoli, penso alla possibilità di far venire docenti e ricercatori. Azioni sono state già realizzate in questa prospettiva, andranno incrementate. Nel mezzo alle classifiche, UniVPM è quinta università italiana per i medi atenei, secondo il Censis. In ottica mondo, tra le prime 100 a livello europeo, nella fascia 401-500 a livello mondiale, secondo Times Higher Education. Punto più debole per la Politecnica delle Marche, secondo il report proprio la ricerca. Dobbiamo puntare a una research university, evitando solo di essere una teaching university. Questo non significa dire che l'attività didattica non è rilevante, ma sicuramente la competizione la giochiamo solo se investiamo fortemente nella ricerca. In questa prospettiva dobbiamo andare assegnando risorse in relazione al merito. Internazionali, senza dimenticare però il patrimonio di imprese locali. L'interazione con il territorio, con le imprese, con le organizzazioni diventa un altro aspetto fondamentale. Il neoretore entrerà in carica il primo novembre con Marco Dorazio, preside di Ingegneria come vicario. La sua visione così non può che partire dal termine più misurabile in finanza ed economia, i rankings. Il sogno è di migliorare ancora di più questi ranking ed essere sempre più punto di riferimento e polo di eccellenza, sia nella ricerca e sia nella didattica. Grazie per la visione!